Gli agenti della sezione volanti hanno segnalato alla Procura della Repubblica un giovane disoccupato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita all'interno di un'abitazione del centro storico di Caltanissetta, dentro uno zaino i poliziotti hanno trovato due sacchetti di cellofan contenenti marijuana. Dalla questura nissena fanno sapere che dal quantitativo posto sotto sequestro si sarebbero potuti ricavare circa 120 spinelli. Grazie a tutti.